Buonasera fratelli nerazzurri, perdiamo 2-0 contro Liverpool, è una partita che onestamente non meritavamo di perdere con un risultato così perché comunque purtroppo siamo qua a ricriminare, siamo qua a ricriminare un po' come contro Real, perché ragazzi fino al 75esimo era veramente una gran bella Inter Allora, torniamo indietro, ciao ragazzi, sempre forza Inter, ciao E dicevo, torniamo indietro un attimino, l'Inter che si schiera con la classica difesa e veniamo subito i singoli, molto bene De Vrij a me è piaciuto molto De Vrij, uno scrignar monumentale, Vastoni ha fatto bene, Perisic ha fatto ragazzi a sinistra una partita fantastica Ha veramente fantastica, complimenti a Perisic, un bel Danfris, veniamo al centrocampo, Vidal Vidal fino al 75esimo, fino al 70, 75esimo non ha fatto rimpiangere Barella, forse ha fatto la miglior partita della stagione veramente molto bene, Brozio è sempre un giocatore fondamentale, quindi si può fare a meno di dire che ha fatto la solita bella partita chiaro, avevi davanti dei fenomeni, però comunque ha fatto una gran partita Cialanoglu ha fatto delle aperture che valevano il prezzo del biglietto, primo tempo dove comunque prende quel palo che poi si sbatte sulla traversa ha un quasi gol sempre presente, ha fatto veramente una bella partita, a me è piaciuto molto e poi veniamo davanti, Lautaro Martinez ha fatto quello che poteva, ma perché? Perché comunque avevamo il Liverpool davanti con un Van Dijk monumentale, veramente monumentale, quindi chiaramente ha fatto fatica e poi veniamo a Dzeko, Dzeko ha fatto la solita partita di sacrificio fondamentale per il nostro modo di giocare però a Dzeko gli dico ragazzi devi tirare in porta, devi tirare in porta perché a minuto 73 aveva, cioè io ero già pronto a esultare al gol e non tira neanche, no non va bene, cioè fa niente se si sbaglia ma l'attaccante deve tirare in porta perché se pensiamo di entrare in porta con la palla contro queste squadre qua poi una partita che non meriti di perdere più di due pere in otto minuti quando non meritavi assolutamente di finire con un passivo di due gol, assolutamente comunque è stata una partita dove l'Inter ha giocato veramente bene diciamo che la differenza è che se con squadre meno forti del Liverpool quando rubi palla e vai in ripartenza poi arrivi in porta con questi devi tirare, l'abbiamo già detto ma ripetiamolo ribadiamo il concetto perché la partita dice un po' questa Liverpool comunque giocano veramente a memoria corrono come dei matti e fanno un pressing molto ragionato perché? Perché loro fanno un pressing non tanto a aggredire ma a ricoprire gli spazi persi e contro queste squadre qua soprattutto in Champions League questa partita dice che l'Inter c'è, ci può stare anche contro squadre come Liverpool abbiamo visto anche inizio stagione come ci può stare anche contro Real Madrid il Liverpool è più forte del Real Madrid perché hai perso 2-0? Hai perso 2-0 perché non la butti dentro se in Italia hai 20-30 occasioni da gol e fai 3-4 gol in Champions contro questi qua non puoi averne 30 di occasioni e nonostante questo abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni abbiamo fatto poi un inizio secondo tempo i primi 20 minuti del secondo tempo che veramente non puoi giocare così e perdere 2-0 quindi fondamentale iniziare a sbloccarsi mentalmente soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti gli attaccanti devono tirare in porta con la palla non entri contro il Liverpool comunque avanti Inter avanti Inter perché comunque hanno fatto una gran bella partita ai ragazzi complimenti comunque perché comunque il Liverpool non ci ha messo sotto prima del 75esimo perché lo 0-1 è venuto al minuto 75 due minuti dopo che potevamo passare in vantaggio noi è quello che fa girare le palle però è un Inter che c'è un Inter che è molto forte che se l'è giocata alla pari contro un grandissimo Liverpool solo che il Liverpool tira in porta e noi no poi del portiere nostro di Anda voglio rivedere bene perché il gol su calcio d'angolo che abbiamo preso se ho visto bene non è uscito poi domani con calma analizzeremo meglio comunque i gol presi per il secondo gol a Rocambolesco lì è anche un po' di sfiga però comunque avanti Inter sempre forza Inter comunque a testa alta anche se abbiamo perso 2-0 perché abbiamo dimostrato di poterci stare insieme a queste grandi molta malizia stavo dicendo un po' di malizia in più molta malizia in più manca ciao ragazzi sempre forza Inter di Milano il simbolo regale il biscione dell'internazionale grazie a tutti